Musica Bentornato Kudier, bentornata Terminiamo la descrizione della virtualizzazione Dopo aver descritto come virtualizzare un sistema operativo andiamo a vedere come vengono create le macchine virtuali Un altro possibile impiego della virtualizzazione è appunto creare una macchina virtuale una o più macchine virtuali Anche in questo caso nulla di reale apparentemente Si crea un ambiente virtuale nel quale puoi lavorare ma la differenza rispetto alla precedente situazione è che il programma installato non virtualizza il sistema operativo in uso quindi non lo clona ma crea al suo interno un altro ambiente virtuale sovrapponendolo appunto al sistema operativo Si crea una vera e propria macchina tipo un altro computer virtuale con determinate caratteristiche che di volta in volta potrai impostare, variare Immagina un programma che hai installato nel sistema operativo e anch'esso avviato e al suo interno utilizzi un determinato programma che aprirai Il sistema operativo è la base di appoggio al programma che hai aperto e esso lavorerà pieno nelle sue funzioni ma all'interno del sistema operativo Nel caso di una macchina virtuale installerai il programma che ti permetterà di creare una macchina virtuale e lo avvierai dopo aver avviato il sistema operativo Ciò che cosa comporterà? Al primo utilizzo sarà necessario eseguire delle impostazioni Questo perché per il funzionamento utilizza parte delle risorse hardware del tuo computer e da questo momento in poi potrai creare la macchina virtuale Tramite le impostazioni infatti potrai generare una macchina virtuale che potrai utilizzare come vuoi Questa macchina virtuale, ripeto, è inserita all'interno del sistema operativo che sarà reale in quel momento In pratica è come se tu costruissi un computer figlio all'interno del tuo computer reale Il computer padre cederà parte delle sue caratteristiche hardware al figlio il quale lo utilizzerà in base alle necessità dell'utente La macchina padre naturalmente potrà anche risentire della privazione di tale risorse in quanto lui lavorerà contemporaneamente alla macchina virtuale Questo se naturalmente le caratteristiche del computer padre non sono molto performanti in termini di velocità del processore o di memoria RAM Cosa potrai fare di una macchina virtuale? Naturalmente ciò che fai di ogni computer quindi sostanzialmente la risposta già la conosci La nuova macchina virtuale all'inizio sarà un computer vergine appena acquistato e quindi privo di ogni programma Dovrai naturalmente installare un sistema operativo e successivamente installare tutti gli altri programmi che ti necessiteranno per l'utilizzo della macchina virtuale Puoi testare in questo modo l'installazione e l'uso di nuovi sistemi operativi prima magari dell'acquisto oppure creare contestualmente dopo l'installazione con un ambiente sicuro per la navigazione installando dei programmi che normalmente utilizzi per la navigazione Infatti quello che subirà il sistema operativo della macchina virtuale quindi il sistema operativo che avrà installato all'interno della macchina virtuale creata sarà limitata ogni azione sarà limitata all'interno della sola macchina virtuale e non andrà ad interferire col sistema operativo installato nel tuo pc padre Terminata la sessione di lavoro con la macchina virtuale potrai chiuderla come normalmente esegui con tutti gli altri programmi che avrai già fin d'ora utilizzato semplicemente cliccando con il pulsante X di chiusura In quest'ultimo caso anche se è un'azione drastica non produrrai danni ipotetici alla macchina virtuale oppure al tuo computer reale come normalmente può accadere invece se tu spegnessi dall'interruttore ad esempio della ciabatta il tuo computer Questo perché l'attività di lavoro della macchina virtuale è basata su un programma che simula un hardware e naturalmente nel momento in cui lo vai a chiudere è come se chiudessi un normalissimo programma Ad ogni riavvio della macchina virtuale manterrai le condizioni lasciate nella precedente sessione con tutti magari i programmi e le eventuali periferiche installate al suo interno Una macchina virtuale in azione ricorda l'hai già visionata nella lezione 54 e seguenti e contestualmente nelle video lezioni relative nel quale ho trattato e simulato proprio l'installazione del sistema operativo Windows 7 della versione Ultimate grazie all'utilizzo di una macchina virtuale Altro possibile l'utilizzo della virtualizzazione è creare spazi isolati virtuali di sicurezza In questa determinata funzione il programma che avrà installato creerà all'interno del disco rigido degli spazi di sicurezza all'interno dei quali potrai far lavorare i programmi e ogni loro azione sarà limitata all'interno di questo recinto che tecnicamente è chiamato sandbox Ogni azione che i vari programmi tenterebbero di eseguire in maniera permanente uscendo verso il sistema operativo reale oppure magari variare i dati in esso contenuti verrebbe bloccata proprio perché il programma che crea questa limitazione blocca ogni azione verso l'esterno e ciò quindi rimane all'interno della zona di sicurezza virtuale Se ad esempio scarichi o salvi dei file sul desktop virtuale in quel dato momento quando attivo il programma di sicurezza sarà memorizzato nella sola zona di sicurezza ossia quel recinto che ha creato quel determinato programma potrai anche trasferirlo all'esterno di questo recinto per tue necessità oppure nel caso fosse anche cancellato fin tanto che non alteri questo status il programma o il file rimane isolato all'interno di quel recinto e non potrà interagire all'esterno l'utilizzo presto detto potrà applicare le stesse funzioni che hai acquisito nella precedente lezione quando ti ho spiegato come virtualizzare un sistema operativo avviando quindi tali programmi potrai eseguire operazioni in piena sicurezza come eventuali test di programmi che dovrai installare o periferiche che dovrai decidere di collegare al tuo computer o navigare in maniera virtuale sfruttando i browser relativi ogni possibile esperienza sia essa positiva o negativa nata dall'uso del computer rimarrà come detto all'interno della zona di sicurezza sempre entro questi limiti la chiusura del programma che crea questi spazi virtuali farà cessare l'operatività delle azioni perché sono svolte al solo interno di questo recinto potrai cancellare come detto in qualsiasi momento i file o i programmi che avrai installato come test infine di cito l'ultima possibilità della virtualizzazione che è quella di creare lettori virtuali sempre tramite dei programmi potrai ingannare il sistema operativo e simulare la presenza di un numero variabile di lettori virtuali in pratica aprendo esplora risorse noterai la presenza di lettori che prima dell'installazione ed avvio di questi determinati programmi non avevi in visione a cosa servono a leggere naturalmente ti ricordi quando ho parlato di file immagine nella lezione 78 e il rispettivo video tutorial ho introdotto proprio un programma che crea lettori virtuali e ne ho accennato all'uso lo richiamo in breve poi lo vedremo nel dettaglio quando spiegheremo i programmi dicendo che tramite esso potrai aprire dei file immagine senza doverli masserizzare su supporti ottici risparmiando così il disco ed utilizzando lo spazio del disco rigido dove hai memorizzato questo file tutto sommato una funzionalità economica rapida e versatilissima in quanto potrai impostare anche un numero ampio di lettori dettato soltanto dal limite di impiego del programma che genera questi lettori l'immagine può essere montata o smontata e quindi inserita all'interno del lettore che ne permetterà l'utilizzo come se tu avessi inserito un vero disco ottico nel lettore reale del tuo pc e quindi terminata questa spiegazione dei possibili modi di utilizzo della virtualizzazione vado ora ad elencarti ipotetici contro della virtualizzazione come tutte le cose anche la virtualizzazione può avere dei contro la realtà dei fatti che ho derivato esclusivamente dalla mia esperienza naturalmente è riferibile soltanto ad un approccio mentale nell'utilizzo tecnicamente io infatti apprezzo moltissimo le potenzialità della virtualizzazione in genere ma all'inizio anch'io fin tanto che non avevo acquisito una forma mentale adeguata a volte mi ritrovavo spiazzato per i risvolti chiamiamoli negativi che produceva una volta che anche tu avrai imparato la filosofia di lavoro dei programmi che ti permetteranno di impiegare la virtualizzazione negli esempi che ti ho citato e prenderai naturalmente il tempo necessario a studiarli non genereranno particolari effetti collaterali anche nel caso tuo in sintesi dal mio modo di vedere l'unico contro è riconducibile alla necessità di acquisire una forma mentis adeguata altrimenti la naturale conseguenza dell'uso della virtualizzazione sarà quella di vedere perdere dei dati importanti confidando con una certa superficialità invece di averli salvati quindi semplicemente occhio a quello che fai e si ne è cosciente quali sono i programmi? beh ne troverai tantissimi come detto alcuni gratuiti ed altri a pagamento ma se non hai troppo da chiedere come sempre semplifica al massimo nella scelta termino questa lezione elencando di brevemente alcuni programmi di virtualizzazione che potrai sperimentare nell'attesa che io inizi la loro trattazione durante questo percorso didattico ecco te ne srotolate alcuni un primo programma è Return Virtual System che io impiego qualora mi necessiti di virtualizzare il sistema operativo poi c'è VirtualBox che è un programma gratuito che ti permetterà di creare una o più macchine virtuali altro programma che potrai utilizzare per creare macchine virtuali è Virtual PC integrato in alcune versioni di Windows poi abbiamo Sandbox che è un programma che ti permetterà di avviare programmi in zone di sicurezza ossia creare quei recinti di sicurezza di cui ti ho parlato ed infine Magic Disk che è un programma molto leggero che ti permetterà di creare N lettori virtuali per poter aprire file immagine senza avere un disco masterizzato e poi non dimentichiamo la tecnologia di virtualizzazione che ormai abbonda in rete hai mai sentito parlare di cloud? bene pian piano tutto diventerà virtualizzato anche la nostra vita bene Guder ti rimando alle prossime lezioni con nuove informazioni didattiche ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto Grazie per la visione!